Fammi vedere Non me lo dice No, è giusto Simpatico Però non mi sembra andare benissimo O sì? Va benissimo la live O no? Non c'è un'altra Ciao Gabriele Oddio ti vedo con Ti vedo con il tuo nome colorato viola E le tue cose No, bellissimo Vedo anche Matthew con Con i simboli della sub Il prime Ma hanno aggiornato quest'app ed è incredibile Vi prego ditemi che escono anche le donazioni E vado fuori di testa E il sub Quello che è Vediamo Provo a rimandarne una Niente, non mi carica una sega Ecco qui vediamo No No Non escono Ma ogni tanto scatti un po' Vedo Non so se però è colpa della connessione O del server Ok Meglio? 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 So nice Altro che caldo si stava meglio all'inferno Pensa che io ho battuto i denti stanotte invece For now you are fluide Thank you Baonamai Sono in hotella Da Bonoterme E abbiamo una vista pazzesca E basta Per il resto di pazzesco C'è poco E vi farò fare un bellissimo tour della camera Siete contenti? A parte il fatto che ieri ho comprato La caramella di montagna La caramella di montagna Si chiama proprio così È scritto La caramella di montagna Caramelle cotte a fuoco diretto Sono Dure impestate Ma sono buone Ti salutano Posso inquadrarti? Sì Guarda che belle ginocchia che ha Ma Stardo forse Adesso chiudo però qui Perché sennò veramente entra il caldo Tanto che faccio fare un tour fuori Fuori si sta benissimo È un po' eccessivo Ci sono 28 gradi Allora La visione qui Ma c'è l'eco? Com'è possibile? Vabbè Questo è il terrazzo che abbiamo Ed è veramente molto molto fico Finché non ti vai A soffermare su alcuni dettagli Ma ci arriviamo con calma Allora Intanto la vista Devo dire che è molto interessante Lì ci sono i Colle Euganei Lì ci sono altri hotel Quello lì vedi È più alto del nostro E quindi Vaffanculo È meglio loro Sono uscito al sole E adesso Stiamo andando a rischiare La vita per voi Ecco qui Guardate Ho la scritta dell'utè Bene Sono malato Quei piccoli cottage Sembrano molto molto ficchi Aspettate a gridare Che lusso La dice una signora Come un cane Possiamo spiarla Wow Che dog E va bene E ora Andiamo a notare Tutti i dettagli Che ti fanno chiamare Il lusso Da ogni poro Già Si può dire Che è lusso questo Ma non soffermiamoci Sarà solamente un caso Camminiamo un po' più in qua E oh Questo gradino È stato Riparato E non tanto bene Vabbè dai Un piccolo strafalcione Ma Poi qui Mi era parso di vedere Aha Delle ragnatele Gabriele io mi lamento Solamente perché so Quanto ho pagato Tutto ciò E non ho pagato poco Eh Abbiamo speso Veramente un sacco Per goderci Il relax completo E tutto quanto Guarda che bello Questo divano Ma se ti avvicini Insomma Insomma Questo Ciao Questo è il bagno Ciao Qui dove ho fatto la cacca Prima Ciao C'è un dettaglio carino Ci sono delle pietruzze Lungo Non so perché Non servivano Però ci sono Sono come Paris Hilton Allora Accendo le luci E questo Credo sia No Non è il massimo di luci Forse ce n'è Ok Questo è il massimo Delle luci Va ancora male La live adesso Che palle E vedo che È altalenante Funziona? Sei ripreso? Meglio serie a bio Gabriel Dimmi tu Video lag audio buono Ma a sto punto Scusate Lo faccio da telefono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Sono da telefono in 4G E aspettate un attimo Perché magari Vi posso fare anche Un piccolo regalino Visto che sono da telefono Datemi un secondo Vi poggio un attimo Eh lo so che è meglio Ma però sono in 4G Ma però poi Non è molto Corregiuto Tuttavia Tuttavia Sono in 4G No Gabriel La foto del can Non te la mando Ma perché Questo hotel Non mi dice Che posso farlo Anzi me lo impedisce Proprio Aspetta Vediamo se riesco Ditemi se c'è un cambio Dell'audio Perché sennò Mi toccheri Riavere la live Un'altra volta Sai che bello Prova L'audio è migliorato? Gabriel Mi senti Da un altro microfono Dal microfono Che ho qui sotto? It's better off alone Si sente bene Perfetto Perfetto Allora Vi faccio rivedere I dettagli di prima Perché adesso Abbiamo anche Una fotocamera migliore Direi che Si che è bello Wow Ecco Più ficco no? Siete fantastici Allora Eravamo qui Qui ho fatto la cacca Prima dicevo E ci sono Brillantini Lungo Tuuuutta La superficie Del bagno Qui abbiamo Una finestra Per sbirciare Le persone Non so perché C'è una finestra E non si può chiudere Lei stamattina Si stava preparando Con queste luci accese Giustamente Perché sennò Qui è buio Ero lì E mi ha svegliato Perché questi sono Alto design Qui 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 c'è una parte Molto bella Allora Intanto qui Abbiamo trovato Tutti i capelli del mondo Tutti Tutti i capelli del mondo Erano dentro questa vasca Primo Secondo La vasca ci mette Circa 4 ore A riempirsi Perché il getto d'acqua È questo Dov'è? Esce Eccolo lì E dite Ma hai aperto solo la calda Hai ragione Adesso ho aperto anche la fredda Sì Ma Ok Poi abbiamo telefonato Dicendo Guardi che Lo schermetto Ovvero questo qui Non funziona La risposta è stata Aspettate che si riempiano Tutte le bocchette E poi la L'idromassaggio funziona Ed effettivamente Una volta riempite Tutte le bocchette L'idromassaggio funziona Però funziona Dopo aver premuto questo tasto Cambia colore A cazzo Con la potenza massima Di massaggiazione E questo qui Non funziona Abbiamo chiesto A chi di dovere Ha detto Eh quello lì non funziona C'è solo on e off E allora che cazzo Se lo metti a fare Lo schermetto Per modificare Vedi Le luci La potenza La tipologia Non serve a niente Completamente inutile Tutto inutile Qui c'è una bella doccia Bella grande Anche se Non molto È un po' pericolosa Diciamo Qui c'è il Chiudi doccia Che oltre ad essere Credo arrugginito Non lo so È anche Una merda È rotto Vedi che mancano i dentini E quindi non sta In sede Non sta fermo Quindi Ho fatto una doccia di prova Ieri Faceva così Praticamente Dondolava in giro E qui c'è uno schermetto Simpatico Perché Puoi fare un effetto sauna Vedi Se accendono le luci Questa è una cosa carina Luci che non puoi controllare Credo Puoi Accendere la ventilazione Accendere e spegnere le luci Questo non mi ricordo I gradi I gradi che ci sono all'interno Perché Fa proprio l'effetto sauna Puoi scaldare anche il pavimento È una cosa molto 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 figa Fa dei rumori inquietantissimi Vedi però È una cosa parecchio figa Io spengo Che non si sa mai Anche qui Diciamo che Il dettaglio Viene lasciato All'immaginazione Dell'utente Non si vede neanche Nulla Ed ecco qui Ieri abbiamo riuscito Abbiamo rischiato Di ammazzarci comunque Perché questa vasca È molto profonda E tu ti appendi qui Per Per Infilarti Giustamente Ma non c'è un corrimano Invece per scendere qui C'è qualcuno di voi Che sa se questa cosa qui È a norma Perché Tu salendo qui Sali E ti attacchi poi Però per scendere È molto scomodo Ah Stai iniziando ad armare Il 4G Ok Va bene Ok va bene E nulla Spegniamo le luci adesso No È rimasta questa Come si spegne questa No Questo qui Ok Qui c'è Royal Kashmir Chiedi il piacere Del Aspetta Of Inviting you Ok La nuova collezione Nella boutique De che Salve signorine Non so Cassetti Non c'è niente Ecco adesso vi faccio vedere Magari la vista Con il telefono Che si vede un po' meglio Profumi erano Kashmir Ma mi sembra strano Che i Kashmir Ho sbagliato Mutato Volevo girare Strano che i Kashmir Fossero profumi Per chi di voi Si fosse perso La vicenda di ieri sera Abbiamo dovuto mangiare In un All you can eat Di sushi Perché qui Ieri sera C'era la serata Danzante E non volevano Gentile in Braghecorte Però Vedere dei vecchi Che ballano Le hit parade Dell'anno scorso Insomma Era meglio Le Braghecorte Scusate che Non mi sono portato via Neanche Un treppiede Perché non pensavo Di fare la live Dal telefono Ma dall'ipad E che si poggiava Tranquillamente Quindi Scusatemi se vi faccio Ballare un pochino No Allora Stasera Io ieri sera Gli ho detto Guardate A me va bene così Stasera mangio anche fuori Perché col cazzo Che voglio Stare a lume di candela In Braghecorte Non lo sapevo Avessi saputo Che c'era la cena A lume di candela Tra innamorati Mi sarei portato via Dei pantaloni lunghi Comunque io Cioè La parte superiore La parte della maglia di Halo Che comunque è un Apollo Mi sono portato via Anche un Apollo di Calvin Klein Delle magliette Eleganti Insomma Giravo vestito da Tony Ciccione Con la canota sporca di sugo Bastava solo saperlo prima Che serviva anche Il pantaloni lungo Che a me non Non ha dato Anche fastidio In realtà Il fatto Che mi abbiano impedito Di mangiare Quei pantaloni Lunghi Me lo potevano dire prima Ma a me ha dato fastidio Più che altro Quello che ha lasciato intendere La signorina Alla reception Dicendo Eh Sa In hotel Di sera Si pensa Che No non si pensa A un cazzo Mi perdoni signora Sono stato in altri hotel Qui intorno C'era gente in accappatoio Che cenava Ora Non sono così stronzo Ma non sono neanche così stronzo Da pensare che Ehi Fuori ci sono 40 gradi Giro in pantaloni lunghi Eh dai Cioè mi sta bene dirmi Guardi Questa è una regola dell'hotel Purtroppo è così Lasciare intendere che sono un coglione Perché non mi sono portato via I pantaloni lunghi Sinceramente lo accetto Veramente poco No io Gabriele non li ho portati Perché dobbiamo stare qua due notti Non mi sono portato via Né un paio di pantaloni lunghi Né una felpa Che ho detto Figa vuoi che Piova? No Non ci ho minimamente pensato Anche perché Siamo venuti In un hotel Le terme Appositamente Per goderci le terme Cioè io adesso sono in live con voi Ma finita questa live Mi spoglio nudo Mi metto il costume da bagno E vado in piscina Cioè il mio scopo è quello Quindi non ho pensato minimamente A vestirmi elegante Per le grandi occasioni Devo stare in piscina tutto il giorno Esatto Super formalissimi Poi ci sono tutti i difetti in camera E poi ci sono i vecchietti Che ballano I belli di gruppo Recuperatevi le stories Di ieri sera Perché sono perle Le terme in questo caldo Te le godi? Sì a me piace stare dentro L'acqua calda Anche Anche con Cioè Anche in istanti Io mi faccio la doccia calda A che ora è il pranzo Tesoro 12.30 13.30 12.30 13.30 Il pranzo Ok Quindi appena finita la live Dobbiamo andare a mangiare Sì È spixelatissima questa qui È che non si vede dalla live È stata tutta zoomata male Non si nota dalla live Però è veramente È come se fosse uno di Bitrate Ci sono alcune foto Zoomate tantissimo Poi c'è una donna nuda Con le pere di fuori Che non possiamo farvi vedere Per ovvi motivi Tutta una merda Ieri comunque gli ho detto Guardi Se domani non mi fate mangiare Comunque i pantaloni corti Ad ogni orario A me va bene Però mi ridati indietro i soldi Della pensione completa Cioè pochi cazzi Io ho pagato per mangiare Se tu mi dici che non posso mangiare All'ultimo momento Mi togli la pensione completa E mi rimborsi No no va bene Va bene Avverto il metro Avverta No non è mezz'ora per il pranzo Un'ora Che comunque non è tantissimo Perché gli ospiti in hotel Sono tanti alla fine Adesso non so come siano organizzati Magari al minuto Perché non abbiamo potuto vedere La sala da pasti ieri sera Per ovvi motivi Da mezzogiorno e mezzo All'una e mezzo Poi in poi non avete idea Allora ieri sera Ci hanno detto No non mangiate qui In realtà ci hanno detto poi alla fine Eh se proprio volete No col cazzo Che voglio mangiare In mezzo a tutte le persone Vestite elegantissime Senza motivo secondo me Ma va bene Perché c'era la sera A lume di candela Beh no è vero Non tutte Siamo usciti Oh Ero in pantaloni corti Maglietta maniche corte Abbiamo fatto la sauna Camminando eh Era veramente Tanto caldo Ma tanto tanto Se avessi avuto i pantaloni lunghi Sarei schiopato Poi mi è stato anche un po' sul cazzo Un altro ospite dell'hotel Eravamo in ascensore Ci stavamo facendo i cazzi nostri Semplicemente non sapevamo il piano Dove si andava a mangiare Allo zero Ok si va allo zero Figa Poi dopo mi sento Due dita fortissime Che mi battono Sulla spalla Un giramento di coglioni Guardate non avete idea Mi sono girate le palle Sto vecchio di merda Che mi ha dato due Ma Di punta dura Cioè mi ha dato proprio due botte Cioè Proprio per Tra poco mi bussava sulla spalla Io lo guardo Ma sei stupido? Mi fa Guarda che Così non puoi venire a mangiare Eh I pantaloni corti Non li puoi avere Tanto ti fai i cazzi tuoi Primo Che cazzo vuol dire Che tu In ascensore Ti permetti Uno di toccare Un'altra persona Che non conosci E due Di dire arrogantemente Come cazzo Si deve vestire Quella persona lì Poi Una volta sceso Me lo dice il personale Dell'hotel Se vuole Non un altro ospite Se vuoi li tolgo No Quella cosa lì Mi ha fatto proprio Girare il cazzo Perché mi ha toccato Mi dà fastidio Essere toccato Da sconosciuti Che poi così E la La bussata sulla spalla Mamma mia Ma va là Che youtuber Non me ne frega un cazzo Ma non me ne frega un cazzo Neanche a me Di avere il tappeto rosso sotto A me bastava solo Saperlo prima Di venire qui Che mi dovevo portare Un paio di pantaloni lunghi Va bene Cioè Eh ho capito Tu mi vieni a dire Tu mi vieni a dire Tu mi vieni a dire Che la cena di Gala E tutto qua Ci sta Va bene Lo accetto Ma se poi dopo Torno in hotel E ti vedo ballare I balli di gruppo Tutto quello che mi hai detto È decaduto Ma latino-americano Ma latino-americano Cos'era La Sofia Ma vaffanculo Cioè Decade Completamente tutto Appena torno Se mi fa tussi Appena torno Torno in hotel Vedo quella cosa E gli dico Scusami Ma io potevo venire giù In canotta Andava bene La colita in smoking No Non erano vestiti così bene Che poi Un'altra cosa Mi ha fatto ridere C'era un'altra ospite Che Mentre il Il vecchio Mi Mi ragguagliava E mi metteva in guardia A quelli dicendomi Guarda che tu non mangi Ha fatto la risata Come per dire Ah sti due coglioni Che sono venuti In braghe corte Eh sì Certo Una cena in hotel Tutta vestita Tirata Davanti a lei C'era il figlio Ora Era un ragazzo Giovane Per carità E quindi Non giudico Come si veste Perché non era vestito male Per quanto mi riguarda Per la sua età Però Aveva i pantaloni Più corti dei miei Di tuta E una t-shirt Banalissima E le scarpe da ginnastica Quelle grossissime Ora A me sta bene Non essere vestito bene Però figa Non fare la risatina Come per far capire Che io sono una testa di cazzo Quando di fronte C'hai il tuo figlio Che è vestito peggio di me Sì Sì Sono sentito su Devano rotto Bambini sono No L'ha avuto 16 17 anni Sì Si è vero Beh non è che Avete caldo Solo voi Allora Spogliati Cazzo me ne frega Ma scusami Infatti Cazzo Non gli ho portati I pantaloni lunghi Non è che Voglio evitare Di sudare Per questa cena Di gala Incredibile No Non ce li ho Perché non ci ho pensato A portarmeli Mai Soprattutto un hotel Che prevede piscina E stare tranquilli Che vabbè Quelli sono gli ospiti E ci sta Che facciano un po' Gli altezzosi Mi è stato proprio Sul cazzo La risposta Della Della signorina Lì in reception Perché non è giusto Cioè Per carità Io ti sto dando Una barca di soldi Per questa cazzo Di suite Che sta cadendo a pezzi Non trattarmi Da coglione Chiedi scusa Anche se Non è colpa tua E fine Morta lì Anche perché Non è che sono andato lì A musodura A dire Oh figli di troia Cioè Io volevo mangiare qua Com'è sta storia Della braga corta È vero Ieri sera Poi siamo tornati Abbiamo chiesto Conferma Per quanto riguarda Il set da piscina Perché noi abbiamo Un set da piscina In camera E Però nella brochure Visto che dopo La cosa della cena Abbiamo letto Praticamente tutto Per non fare figure di merda C'è scritto che Dovi Prendere una sacca Da piscina A pagamento E lui ci ha detto Che la nostra Era inclusa Per via Della nostra Camera super fica Per dire E ha detto Eh mi dispiace Fossero tutti come voi Che appena si sentono Un attimino Fuori luogo Vanno da un'altra parte Giustamente Perché noi Non saremmo mai andati In pantaloncini corti Alla cena di gala Perché non siamo Due teste di cazzo Però No ma al di là Deve essere più chiari Giuse Avvisare prima Allora Tu prenoti Il weekend Venerdì Sabato E domenica Mi dici Guarda Tu vieni di venerdì sera Di venerdì sera C'è questa cosa qui Fine Cioè non Non dai per scontato Che uno si sia portato via Lo smoking Per un venerdì sera Perché detto braga E sa tanto di provincia lotto Braghette Sì siamo in suite Eh ce n'è in camera Non so se ce la facevano Tra l'altro per dire Non è che abbiamo preso La stanza da stronzi Guarda dov'è Oh cazzo Mi è caduto il telefono Non è vero Guarda quanto siamo distanti Ho il naso tappato Io ho sempre il naso tappato Eh non lo so Mi sono seduto qui Mi sento comodo No allora Io non sono quel tipo di persona Mi conoscete ormai da una vita E quindi Abbiamo un rapporto Abbastanza approfondito E posso dire tranquillamente Però Allora noi gli abbiamo dato Una barca di soldi Ripeto per questa Per questa situazione È il mio compleanno Viene una volta l'anno Ho detto voglio prendermi Un po' di relax E ho pagato Però se tu Vai E gli dici qualcosa E Ti viene risposto Alla reception In quella maniera lì Da Da appunto Uno che lavora nell'hotel Tu col cazzo Che ci torni Lì dai altri soldi A questo posto E col cazzo Che io lo consiglio A tutti i miei amici Vi dico Non veniteci È stata veramente Una mossa sbagliatissima Non ci verrò mai più qui Ma solamente Per come mi ha risposto lì E non è che sono uno Che si offende facilmente È che Ha veramente Lasciato intendere Che io fossi un coglione Perché non mi sono portato I vestiti eleganti Per una cena E senza velare troppo Vogliono la loro clientela E basta E allora Fanno schifo i soldi Cosa devo dirti Che poi basta essere Tranquilli Sì effettivamente Guardi questo È per persone giovani Al di là della brochure Che non ve la faccio vedere Perché ci sono le donne nude Se voi andate su Instagram O cercate banalmente L'hotel È pieno di ragazze Con i culi di fuori Tutte ficche Tutte tirate Tutte giovanissime Tu guardando Le immagini Le foto che hanno pubblicato Loro su internet Non ti aspetti Gli anziani Hanno sbagliato anche tutto Il marketing Andate a vedere Vi prego È veramente Boh Perché mi devo soffrire il naso Mi sono dovuto alzare Perché Ho fatto le tintasche Non ho capito Maudid Poi per carità Non mi aspettavo di venire qui A trovare la figa Da rimorchiare Anche perché Ce l'ho già Non è che ne ho bisogno No no ma la cosa di pantaloni Ripeto va bene così Lo accetto Ma Dovevo essere trattato meglio Nel momento in cui c'è un problema L'ospite va trattato Comunque da ospite Soprattutto Visto quanto Ti sta Ti sta pagando Proprio perché poi dopo Non tornerà più E io lo so perché guardo Quattro hotel con barbieri Massimo esperto Matteo Mi sarei vestito tranquillamente Quei pantaloni lunghi Non li ho portati Non era quello il problema Non li ho portati Semplicemente Tuo è un funerale che in piena estate Ci andresti in braga corte No Ma assolutamente no Maudid Ma non è questo il punto Non è quello il punto A me sta bene Non Non li ho portati i pantaloni corti Non ho pensato minimamente Che in un hotel Ti facessero vestire il ruboto Come vogliono loro Soprattutto dopo che Tutte le pubblicità Tutte le foto Che abbiamo visto Erano ragazzi giovani Vestite normalmente Bastava saperlo Non li ho portati Avessi avuto Per la prima volta Tra l'altro Non mi porto via Un cambio di pantaloni Chiedetelo a lei Di solito Ogni volta che viaggio Porto via sempre una felpa E un paio di pantaloni lunghi Me le sono portate Per andare a Los Angeles A Los Angeles Avevo sia i pantaloni lunghi Che due felpe Ok E stavo andando a Los Angeles Non in Siberia E infatti non li ho messi E ci sta Però comunque io Per sicurezza Me li porto sempre Ho detto cazzo Ci sono 40 gradi Non mi servono Soprattutto per tre giorni Però il discorso Non era quello Il discorso è come Mi hanno risposto Perché C'è l'obbligo Di avere i pantaloni lunghi Va bene Come entrare in chiesa Ci sta Non me lo aspettavo Però ci sta Però trattami bene Non mi far sentire Un coglione Ma no Maudid Siamo stati in un altro hotel Di lusso Sempre a 5 stelle Sempre con la suite Qui Te lo giuro Qui Non questo In un altro C'era gente Che era vestita In qualunque modo E c'erano C'erano quelli Che ti portavano a mangiare Che avevano i guanti bianchi E ti facevano i piatti Guardate Guardate il mio weekly C'è il weekly Del Marzo dell'anno scorso Forse era aprile Andate a vedere Le terme sono interne Cioè andatevi a recuperare Lo scorso weekly C'era lusso uguale Poi la stanza Era ancora più anziana Di questa Per quanto riguarda La stanza Preferisco questa Rispetto a quella lì L'altra era più grande Ci davano la frutta fresca Tutti i giorni Che non abbiamo mai toccato Però era bello L'idea Che ci cambiassero la frutta Tutte le mattine Quindi Sono stato in un altro hotel E di là erano tranquilli No Allora in costume Non ci sono mai andato a mangiare Perché comunque Non è che sono stronzo Anche nell'altro hotel Mi vestivo comunque Consonamente Per un pranzo E per una cena Mi sono raffreddato i breakcorti Per forza in camera Ci sono Meno 8 gradi Appena esci Da quella porta Ve lo giuro Nel corridoio Del piano Fa Un caldo Porco C'è una sauna Incredibile C'è un Ci saranno 10-15 gradi Di differenza Sì Qua ce ne sono 20 E fuori Sì ce ne saranno A trentina Perché ci batte il sole E tutto quanto E non c'è la recondizionata In corridoio No no Vi giuro Non si respira In corridoio Camminando Che diceva la Julsi Ci dispiace per il disguido Posso offrirvi una cena in camera Sì una cosa del genere Ma anche Ma anche non una cena in camera Cioè Mi scali il prezzo Che ho pagato in più Per la cena Fine Cioè Non mi fai Va bene Mi rimborsi la parte Che ti avrei dovuto Per quella cena lì A me va bene lo stesso Che mi frega Non l'hanno neanche pensato Ah sì Night Ma sei receptionista Di questo? Sei simpatico ragazzo Che abbiamo conosciuto Ieri sera No niente Io ho il dazio Tappatissimo Sarebbe un twist incredibile Sarebbe un twist incredibile Non avere il naso Sigillato No no Lui non ci ha trattato male Il ragazzo Ieri sera È stato fantastico Però ormai il dado Era stato tratto Tra l'altro Abbiamo cercato una vita Per trovare da mangiare Ieri sera Abbiamo fatto una fatica incredibile Perché Giustamente Non avevamo pensato Prima A prenotare O trovare posto Abbiamo girato un'ora Prima di trovare da mangiare Abbiamo mangiato alle Che ora era? Alle nove Alle nove abbiamo mangiato Ed eravamo scesi Alle sette e mezza Per la cena Ah no Non eri Ok Una volta lo svedese È venuto alla reception Nudo come un verme Mi ha lasciato le chiavi in camera Eh vabbè lì Poverino Eh dai È stato un errore No il ragazzo Il ragazzo Che ci ha accolto ieri sera Vabbè A parte il fatto che mi conosceva E vabbè Non è che Ha avuto un occhio di riguardo Perché ero io Era semplicemente Più giovane Più alla mano E ha capito Dove c'era un Come si dice Un disguido Tra le chiappe Gabriel Ma basta capire Basta proprio capire C'è stato un disguido Fine Non Anche perché Mi conoscete Non Non mi sono lamentato Dei capelli nella Nella vasca Non glielo ho neanche detto Ma perché non sono uno Che si lamenta E cazzo Però la cena L'ho pagata Vorrei mangiarla Non sono uno Che si lamenta Però porca puttana In realtà Sono uno Che si lamenta tanto Però non sono uno Che rompe i coglioni Nella direzione Mi lamento con voi E ho sbagliato Gabriel L'ho sbagliato Con voi Mi lamento tantissimo Perché voi siete I miei confidenti No assolutamente Non ci sarà Una prossima volta Qui E la cosa bella È che ogni volta Cambiamo hotel In cerca di Un hotel Un po' più Giovane Che adesso Non è che voglio La discoteca In piscina Peggioriamo Peggioriamo Sempre Incredibile Ma perché a me Piace un sacco Abano E mi piacciono Un sacco Le terme di Abano Mi piacciono Gli hotel Però figa Non riesco A trovarne uno A cui piaccia io È difficile L'hotel di lusso Dobbiamo fare Il mio compleanno Con tante persone Qui Poi Tra una roba e l'altra Non si è più fatto Noi abbiamo prenotato Dallo stesso Abbiamo detto Vabbè Vediamolo Comunque Qui È stato un errore Perché l'hotel Dalle foto Sembrava galattico Invece no Come sempre In realtà E dico Per fortuna Che non ci siamo venuti In venti Perché dubito Che nessuno di noi Avrebbe potuto cenare Giù Sì non è galattico Per chi ha meno di 80 anni Anche per uno di 60 È fantastico Allora non lo è Però dipende anche Da come mi tratti Perché io ti sto dando I soldi E tu mi fai sentire Un coglione Perché non ho portato Via dei jeans No Quella non è Colpa dell'hotel Quella lì È colpa del personale Vio raso No Come sono andato In uno di quelli me Ma questo qui Quante stelle c'ha 70 4 Come 4 Ma l'hotel Dei poveri Io ne voglio 8 Come si fa Si moltiplicano Che poi non c'è scritto Quante stelle c'ha qui Fuori nel tappeto C'erano 4 È vero Molto bene Jules Quindi pensate C'è gente che pensa Che questo hotel Fa cagare E anziché migliorare Oppure trattare bene Le persone che arrivano Per cambiare nomea Li mandano via Bella Albarella Mischio Però comunque No che non vengo via Perché ho pagato Ormai sto qua 4 stelle con piscina E spasso un po' Che no Qui ad Abano Ce l'hanno tutti Ci sono i 3 stelle Con piscina e spa Che in realtà Non avevamo guardato Le 4 stelle Perché non avevamo A fare i fighetti Semplicemente Siamo partiti Vi lo giuro Con la ricerca Di trovare un hotel Che tenesse 20 persone Cioè lo scopo Era proprio fare La festa Del mio compagno Qui Tante stanze Stavamo cercando Delle stanze E cazzo Il telefono E stavamo cercando E stavamo cercando Ripeto Delle stanze Per tutti Tutti gli altri ragazzi Quindi delle stanze Anche da 3 Da 4 persone E non tutti gli hotel Li avevano disponibili Questo qui si Questo qui Permetteva anche Stanze da 3 o 4 persone Allora avevamo Adocchiato questo E non tutti ieri Non mi tengo più il braccio Oh che male Cosa? Sì sì Arrivo Sì però scusami Sono le 11 Meno 20 Cazzo andiamo a fare In piscina Se poi a mezzogiorno e mezzo Dobbiamo andare a mangiare E per forza Ci sono degli orari Incredibili Da mezzogiorno e mezzo L'una e mezza Per mangiare Non faccio tempo Ad asciugarmi Cos'è sta roba qua poi Dov'è questa? Perché noi non ce l'abbiamo La conchiglia qui? Aspettate che devo Censurare Perché so che appena giro C'è una signorina Con le pere di fuori No qui c'è la fanga Dei prezzi molto abbordabili Come potete vedere Per la fanga Ecco E porca troia Senza ricetta medica Che sboro Tre cure Beh Censuro Eccola qui Aspettate Metto il dito Questa signorina Sotto Non ha niente È in desabilié Va bene Per il percorso romano Irlandese A quanto pare Cioè Credo si possa stare nudi Lei è nuda Poi c'è la signora Super Guardate i pixel Adesso non so se dalla lavi si vede Ma Guarda Si vedono tanti Dai Dai Ma quanto è Dai Per favore Giro Cellule staminali per il viso Censuro Due signorine spixelate Che se la raccontano Una che prende un ceffone Censuro Una che viene salata Una che viene infiorata Figa Beh no I prezzi credo siano anche abbastanza buoni Non lo so Censura Questa che cazzo c'ha C'è la censurata da sola Qui ti spazzolano la schiena Bellissimo Novità Chissà di quanti anni ha Anche per lui Bene Persone Bambini Tutti spixelati Toccamenti Mosse di Kung Fu Toccamenti E abbiamo fatto Eh vabbè Vado a farmi spazzolare la schiena No no Costa tutto tanto Non siamo a Sirmione Siamo ad Abanoterme Ma è proprio per quello che ti dico Cazzo l'hotel È così di lusso E poi mi tratti da stronzo Ma Reliax Miramonti Costa un bel po' Ma è più bello Eh ho capito Allora Bisogna vedere anche quanto costa Cioè io Piuttosto Vado in una stanza Meno superfica Però Sto tranquillo A me non interessa Spendere i milioni Mi interessava stare tranquillo Un weekend È tutto solo per donne Sì ma però c'è anche Quello lì per lui No Gabriel Però mi dà comunque fastidio Perché Io probabilmente Con i receptionist Non ci parlerò mai più Il 50% Delle volte Con cui ho parlato Con qualcuno Sono stato trattato Di merda È anche giusto Che l'hotel capisca Che tu non puoi trattare così Le tue persone Ok È solamente una receptionist Su 10 Però è una testa di cazzo Se mi tratta così Capisci? Non so se hai capito Qual è il punto Per me è sbagliatissimo Poi per carità Ho tantissime belle parole Per l'altro ragazzo Che ci ha trattati bene Ci ha scusato Ci ha controllato Quello che doveva controllare Ha fatto tutto per bene Però No io non ho risposto di merda Io sono stato educato Per me è sbagliatissimo Per me è sbagliatissimo Abbiamo parlato Con il direttore L'ho parlato anche Con il direttore Che è stato molto condiscendente Che non abbiamo chiesto Noi di parlare con lui Comunque Ce l'ha chiamato lei Come per dire Oh questi sono dei rompicoglioni Andiamo a chiamare il direttore No Signorina Non me ne frega niente E lui giustamente Ci ha detto Eh Va bene Fate quello che volete No non mi sono perso Il tuo rinnovo Ed of Maggot Mi sono perso tutti E io ringrazio Tutti quanti Per donazioni Super e sub Ma non escono mai Aspetta Ed Ce l'ho Un bel rinnovo da Londra Me lo fa una benedizione Per il lavoro Tanti auguri Tanti auguri Grazie a Bully Per i suoi sei mesi A Fener Per i suoi 32 Sono troppi Dovete disintossicarmi No lascia perdere Raddoppia Grazie a Dalian Per i suoi quattro mesi A Morinix Che ne fa 32 Ti tiro sul morale Con questa sabola E' importante che voi due Vi vogliate bene Assolutamente Viva Prezzem Prezzem Cos'è Prezzamelo Hai sbagliato Su Pezzali Grazie a Darian Per i suoi sei mesi A Adele Cazzo Guardi Non è uscito Neanche uno Adele Signor Gatto Buongiorno E buon fine settimana Grazie Grazie a Prio Per i suoi 30 mesi Grazie a Luca Drake Per i suoi 29 Night Ne fa 26 Buon anniversario A noi E buon uno mastico A me Tutto Grazie Grazie a Doraemon A De Strada Dr. Lex Scusatemi C'ho un po' di reflusso Grazie a Melton Grazie a Mike La colazione è stata terribile Grazie a Mike Grazie ad Alessio Grazie a Sampaio Un quarto di mescolo E buon relax A lei Ci siamo Pensate che oggi ho mangiato un occhio Un occhio Ho mangiato un uovo all'occhio di bue Sotto era cottissimo E l'uovo era praticamente sodo Sopra era crudo Per me si sono impegnati Io non so come hai fatto a farlo un uovo così Ma sei bravissimo Da una parte era Cottissimo Dall'altra crudo Ma crudo crudo Proprio C'era ancora il bucichino sopra Sì ma io mi sto uccidendo qua No la colazione non era buona Era No se me la facevo a casa io era più buona Cazzo il bacon Il bacon non era bacon Erano straccetti di Sembrava prosciutto cotto Che era stato cotto ancora Non l'ho preso infatti Da una parte era bruciato Dall'altra aveva ancora la gallina attaccata E' un McNuggets No beh non lo devi girare l'uovo all'occhio di bue Si cuoce solo da una parte ovviamente l'uovo all'occhio di bue Però Per renderlo da una parte bruciato Con addirittura il tuorlo Cotto come se fosse sodo E dall'altra completamente crudo Che non si era cotto neanche l'albume Cazzo io non so come hai fatto Tutte queste mattine mi sono svegliato alle 7 Ho portato fuori Sif E ho fatto colazione in casa con l'uovo Proprio per iniziare con la colazione E effettivamente mi sento proprio bene E' stata una bella settimana Mi sono sentito molto attivo Nonostante il caldo E' una cosa che vi consiglio comunque di fare la colazione tutte le mattine Come tutti i medici Io sono dovuto arrivare a 27 anni per iniziare questo stile di vita Ok? Mi sono fatto le uova tutte le mattine Uova Pane tostato Pane tra l'altro con tutti i semi dentro Per fare una cacca incredibile Arrivo qui Cazzo è fatto col culo Ero più bravo io No Se l'avessero fatto in microonde Sarebbe stata una cottura uniforme Allora colazione salata Nemmeno io appena sveglio Però dopo la passeggiata con Sif Si Dopo un'ora che sono sveglio La faccio tranquillamente Si 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 La colazione è effettivamente quella cosa che Ti dà effettivamente più energia durante il giorno Però io c'ho un problema Da quando faccio colazione Faccio fatica ad arrivare a fine della live Cioè alle 11 del mattino Delle live di tutti i giorni Senza avere una fame bestia Non so perché Io faccio colazione circa alle 8 Mangio appunto sto uovo Un bicchiere di succo E una fetta di pane tostata E poi ho una fame Il caffè naturalmente Ma ho una fame terribile A fine live Ma terribile Prima bevevo solamente un caffè Andavo in live E non avevo tutta questa fame Cioè Paradossalmente Mangiando di più Poi mi viene più fame Perché azioni in metabolismo Magia Paio di noci Sei un hobbit Quindi devo fare la seconda colazione Mi stai dicendo Dai ragazzi Vi abbandono un attimino prima Perché Andiamo a vedere un po' Come sono queste piscine Seguitemi tutti su Instagram Mi raccomando Il gatto sul tubo Naturalmente anche su Instagram Così potete vedere tutte le foto Che posto Della situazione Che andiamo a vedere Delle stories E quant'altro Quindi godetevi Questa cosa qui Io vi ringrazio Come sempre per donazioni Super e sub Vi ricordo Rinnovate anche fuori live Tanto Ormai abbiamo capito Che sto mese L'abbiamo perso Lavoreremo più sodo Dal prossimo E' sempre un piacere Sfogarmi con voi E' sempre un piacere Stare in vostra compagnia Siete fantastici Tutti quanti E noi ci vediamo domani sera Una volta tornati a casa Ok? Buona giornata E buon weekend Ragazzi A domani Grazie a tutti Grazie a tutti